Prevenire il problema è l'unico modo che abbiamo per risolverlo. Buongiorno a tutti, sono Sofia Rossi, primo speaker della squadra PRO. Dopo di me parleranno nell'ordine Tommaso Godino e Andrea Profili. La mia squadra si dichiara favorevole alla mozione. Le multe per violazione del codice della strada dovrebbero essere completamente convertite in periodi di lavoro socialmente utili. Provedo innanzitutto a definire i termini più importanti. La multa è una pena pecuniaria prevista per determinati reati. Completamente convertito significa un cambiamento totale. Lavoro socialmente utile è un lavoro svolto da lavoratori precari presso amministrazioni pubbliche specializzate nei settori dei servizi e dei beni culturali e ambientati. Qual è la situazione che ci troviamo oggi? Le violazioni al codice della strada sono all'ordine del giorno, creando un fortissimo rischio non solo individuale ma anche collettivo. Questo crimine è sottovalutato perché veramente mette a repentaglio la sicurezza di tutti noi. Pure questi fattori, questi che minano veramente alla sicurezza stessa dello Stato vengono puniti come multe. E queste multe finora non hanno portato a risultati concreti. Perché altrimenti non assisteremmo a incidenti continui per violazione del codice stradale. Perché altrimenti queste violazioni non sarebbero la prima causa di morte giovanile in Europa. Grazie a tutti!